Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nell'aula 28 del complesso religioso della chiesa, del santuario di Santa Maria delle Grazie, qui di San Giovanni Rotondo. Quest'aula era una piccola aula, ecco qui c'erano dei banchi adibiti per delle lezioni quotidiane che lo stesso Padre Pio dei Pietrelcino quando giunse qui nel 1916 veneva ai piccoli fratini, agli studenti, questi ragazzini, questi dodicenni, tredicenni che vivevano in convento e si preparavano a questa vita da frate minore Cappuccino. Tante sono le storie che vi abbiamo raccontato, ma all'indirizzo che vedete qui ora in sovrimpressione continuano ad arrivare le vostre mail, i vostri racconti, come quello di Marco. Marco, che abita in provincia di Bologna, Pianoro, racconta la sua storia, una storia di dolore e speranza accanto alla sua mamma malata, molto devota di Padre Pio, trascorreva gran parte del suo tempo in preghiera, un esempio di fede proprio per Marco, che ha sempre seguito con rispetto e devozione, però quando mamma Aurietta viene a mancare, e questo accade nel 2021, la mamma aveva 73 anni, lo lascia solo, la sua fede si intensifica ancora di più. In una notte calda di luglio, racconta Marco, pochi mesi dopo la sua scomparsa, la scomparsa della mamma, si sveglia bruscamente, sentendo qualcuno che lo scuote nel letto. Così lui alza gli occhi verso il soffitto e si ritrova a guardare una figura che lui poi percepisce come quella di un frate, di Padre Pio, che gli dice Marco svegliati, Marco svegliati, confuso, Marco osserva subito il soffitto e nota che c'è un pipistrello nella stanza. Realmente, non era più quel sogno, ma realmente lui sente questa voce che gli dice svegliati, svegliati e c'è un pipistrello nella stanza. Con coraggio accende le luci, lascia che l'animale esca dalla finestra e ringrazia così Padre Pio per questa presenza rassicurante. Dopo più di due anni di dolore e di lutto, trova finalmente la forza di andare a visitare, di andare a fare una preghiera al cimitero dove la mamma è seppellita perché si trova in provincia di Perugia, nel comune di nascita della mamma, Marsciano. Durante la Pasqua, durante la Pasqua che Marco si reca al cimitero, portando con sé due fiori da posare sulla tomba per pregare per l'anima di mamma Orietta, ritorna a casa, su quella stessa finestra dalla quale la madre amava affacciarsi a pianoro, Marco nota con meraviglia che ci sono due rondini che hanno deciso di costruire il loro nido. Questo evento insolito, dopo tanti anni di residenza nella stessa casa, porta Marco così a credere che le rondini siano un vero e proprio segno, un segno inviato dal Padre Pio per confortarlo, per indicare appunto a lui che la mamma sta bene, è felice ed è in paradiso accanto a lui.